Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red Come vedete oggi siamo su Europa Universalis 4 Visto che comunque alcuni mi hanno consigliato di fare anche altri giochi Altri giochi da Paradox o altre strategie in generale Di fare altri gameplay per vedere un po' che impatto ha E noi adesso proviamo proprio Europa Universalis 4 Visto che aggiungere in progettazione Europa Universalis 5 Sono molto contento e scontento per due cose Contento perché finalmente faranno un nuovo Europa Universalis con nuove meccaniche Spero che sia bello quanto Crusader King 3 Scontento perché comunque ci gioco da 10 anni a questo gioco Letteralmente 2600 ore Sicuramente non mi ricordo un tubo adesso che dà un annetto che non gioco Però volevo provare una run molto particolare Non voglio stare in solita Europa solitaria Voglio giocare in un posto effettivamente che ho giocato molto poco E che effettivamente non ho una conoscenza enorme Per controllo come funzionano le missioni di quest'area Quindi io sinceramente vorrei iniziare una partita con Malacca Essendo che sono un player molto commerciale Quindi piace molto la Repubblica di Venezia Paesi Bassi Una Inghilterra La Spagna-Portogallo Sono molto basato sul commercio e colonizzazioni Voi provare appunto Malacca e fare una partita proprio con questa nazione E quale sarà l'obiettivo? Già mi sono fatto un'idea Quello di controllare effettivamente tutte le isole di quest'area Quindi Australia Da Nuova Zelanda Quindi facciamo conto Da Nuova Zelanda Queste qua sono escluse tutte queste isole Tutte queste isole qua escluse Da Nuova Zelanda fino a Malacca e Basin Come cavolo si chiama Alle Filippine Fino sotto i Ming E fino appunto anche quest'area Tutta quest'area qui Controllare anche da questa isoletta ovviamente Tutta quest'area deve essere sotto il mio dominio Entro la fine degli anni del gioco Questo sarà l'obiettivo della partita Rispetto a Crusade King abbiamo un po' diverse le scelte da fare Magari poi proponete voi un futuro gameplay Un futuro qualcosa di particolare Come questa giocata che voglio fare Ovviamente andremo in modalità Iron Mod Così voi siete sicuri che io non faccio di... Non imbroglio eccetera Scriviamo YouTube Così mi ricordo che questa è la partita per YouTube Poi detto questo Europa Universalis 4 appunto detto Ho tantissime ore rispetto a Crusade King Magari dovrei avere una conoscenza maggiore ragazzi Ma non vi aspettate Chissà cosa da me in questo caso Perché non mi ricordo un tubo La webcam non vi preoccupate Verrà adesso momentaneamente spostata Devo un attimo capire Dove potrà... Dove non può dare fastidio Tecnicamente immagino Che il fastidio forse la parte bassa Anzi nella zona a destra Un attimo abbiate pazienza Abbiate pazienza Che effettivamente la cambio un attimo La mettiamo qui Che dovrebbe essere l'angolo Che dà meno fastidio Se in caso avete altre posizioni migliori Consigliatelo Secondo me questo è il punto migliore per voi Per guardare un po' tutto il resto Allora prima di saltare Dobbiamo intanto un po' controllare la flotta Abbiamo 9 mercantili Ottimo Quindi possiamo un po' dividerle Intanto Ci dividiamo le navi Per il controllo marittimo Contro la pirateria Seleziona missione E andiamo a vedere I profitti che ci possono portare Beh Non così bassi Proviamo a dividere ancora la flotta Quindi la flotta più piccola Quindi la flotta più piccola Di queste navi Togliamola qui E andiamo Aggiungerla A All'altra flotta Che è questa qui Quindi un attimo solo E poi creiamo il commercio Intanto la flotta abbiamo sistemato Andiamo a guardare un attimo l'esercito Abbiamo 7000 2000 Noi siamo 1-2-1 Deve schiattare Quindi la cosa più sensata E fare così No Sbagliato Così Siamo come generale Così magari schiatta subito I nostri amici sono Brunei Khmer Pattani Vabbè Classici Questi sono rimasti Abbastanza uguali E va bene così Allora Noi non abbiamo Vassalli Non abbiamo niente Siamo soli E isolati Piccolini Quindi dobbiamo Abbiamo anche la fede musulmane Anche la maggior parte Sono musulmani Nella nostra area E dobbiamo Un po' Prendere controllo Di questa area Il prima possibile Perché Potremmo Rischiare Questo vediamo un attimo Ok no Devo tutti Attaccarli Vabbè Possiamo mandare Avanti un attimo Qualche giorno Giusto per Sistemare un attimo La nostra flotta Che vi serve Eccola qui Allora Protect trade Ok Perfetto Vabbè I profitti sono sempre uguali Più o meno Poi guadagniamo Qualche centesimo in più Ma Meglio così Che noi soldi servono E abbiamo un po' Di gente Intorno Dobbiamo Subito Prefarci un po' Di cibo Intorno Conquistare tutta l'area Prima possibile Andiamo a vedere Le missioni Effettivamente non le ho viste Ok Immaginavo Praticamente Non deve essere un tributario Deve essere sottomesso A noi E minchia Non male Questa missione Poi dobbiamo avere Mingo Malacca Is True Nut Trust Ehi Questo è un po' Non dobbiamo essere Malacca Is Allora Siamo rivali O quelle due sono vere Poi dobbiamo avere Trenta galè Non è un problema Avere tre bassalli Perfetto E manufattura Vabbè Intanto vediamo queste qua Con calma Ciampa Abbia un'opinione Cento con gli alliei Ok dobbiamo fare Un'alleanza con lui Dobbiamo garantirlo È un po' difficile Intanto miglioriamo Le relazioni Dobbiamo difendere Ciampa Allora abbiamo avuto Delle richieste di alleanza Delle richieste di alleanza Uno è Siak Siak per il momento Ce lo teniamo alleato Questo è Mi pare Questa nazione è qua Ma noi siamo interessati A conquistarla Pasai Non ci interessa A noi Interessano Altri tipi di alleanze In questo momento Ci interessa Questa nazione Appunto Per ovvi motivi Allora Domina il trade Va bene I job discovery Adesso Ok Più o meno Siamo lì È inutile andare Un po' troppo A vedere le missioni Delhi Allora io Sinceramente Non me le ricordo Ste nazioni Che cazzo sono Che sarebbe questa Questo l'accetto Perché ci può servire Sì Ecco Ma prima Tanto non abbiamo interesse Adesso nel dominio Dell'isola Ma ci dobbiamo Prendere dominio Da un'altra area Prendiamo bei soldi Quindi direi Di un po' Appare Un po' di truppe Dobbiamo farle Massimo è 12 Un po' Che schifo Se posso dire E dobbiamo aspettare Che possiamo fare Qualche alleanza Con questa nazione Un po' Complesso Ma Oddio Complesso Dobbiamo solo Avere pazienza Ecco Intanto Abbiamo quei due Alleati lì Che Ah Bene Diciamo che Abbastanza 10 legalismo Aspetta Non mi ricordo La fede Legalismo Mi dava Più soldi Questa più morale Eccetera Quindi Legalismo Miticismo Missionari Ok Buttiamo questo Questi non sono male Ma Andiamo A buttarci Appunto Su questi bonus Noi abbiamo adesso Prima 1.5 Non è malissimo Soprattutto all'inizio Non è per niente male Allora Abbiamo fatto Una missione Ah Ok Jambi Deli Ok Già abbiamo Dei casus belli Giambi E belli Giambi E belli Chi cazzo sono? Scusate Ma Non mi ricordo Ah Giambi E questo E belli E belli Ok niente Dobbiamo andare a vedere qua Ah Deli Deli Madonna santa Ho letto Un'altra cosa Scusate Ma Non mi ricordo Un cazzo Deli Che sarebbe questo? Cazzo Noi ci siamo alleati E Questo è un problema E vabbè Questo invece È alleato con Brunei Rattura di coglioni Siak Ah ma È vassallo di Siak? Ah no Questo è diventato Nostro vassallo Deli ci aiuta In questa guerra In questa guerra Di sottomissione Ace Vediamo chi Scusatemi Veramente Non mi ricordo Veramente un tubo Ah Gli possiamo promettere Le terre di Ace A lui Che si facciamo aiutare E noi comunque abbiamo Un ottimo esercito Intanto che aspettiamo Di mantenere i rapporti Con altre persone Sì Tanto lui Per ora Non ci caga Ma mandiamo le truppe qui Abbiate pazienza ragazzi Eh Ma veramente Veramente Non mi ricordo Un tubo Allora Con sto Advisor Vabbè Per ora Advisor livello 2 Non è che sia proprio Granché Prepariamoci Per la nostra Prima guerra Insomma Il problema Sarà Brunei Ma Più o meno Sarà un problema Perché Chiamiamo lui In guerra Eh Mo' si è alleato a un altro Mannaggia la puttana Chi cazzo è questo Ora Ah Non ci va proprio male La cosa eh Cambierei un attimo Obiettivo del mio esercito Lui pensa a questo Lui mi attacca a questo Io vado ad attaccare Brunei Per un po' Non dovrebbero Umpire i coglioni Ha una flotta Forse più forte Del nostro Perché non mi ricordo Le idee Ma abbiamo Forse una vale Molto più alto Ma lui mi pare Che ha le navi Più forti Delle nostre Inizialmente Eh Che dire Che dire Dobbiamo trovarci Forse qualche altro Alleato Interessante Lui non accetta Mai un'alleanza Questi ci odiano A morte Anche lui Ci odia a morte Lui Non vuole saperne niente Per ora Purtroppo Intanto Facciamo così Per ora Inutile fare Tass Prestigio 30 Sicuramente ci arriviamo Andiamo a dichiarare Guerra Non a lui Andiamo a dichiarare Guerra A lui Potrebbe finire Subito la partita Eh Non ho diplomatice Ovviamente Però Se io dovessi dichiarare Guerra Lui Viene Giambi Giambi E Quella nazione Lì Eh ma Non ci dè il caso Su belli poi Eh no vabbè Aspettiamo dai Questo ci vuole un po' Per fare amicizia Quindi per ora Lasciamo un attimo stare Dobbiamo andare in guerra Ragazzi Subito Sono poche truppe Facile Questa guerra Tecnicamente Dovrebbe essere facile Andiamo subito A eliminare Quelle truppe lì Usiamo i punti Dai sì Inchia Che generale Della madonna Ah se tutte le navi Ci seguono Vinciamo facilmente La battaglia Ok Quella nave Flotta distrutta Metti l'esercito qui Le navi possiamo Un attimo Consebarle Perfetto Abbiamo perso Una nave Però Vabbè Cazzo Questi stanno attaccando Non so quanto sia Stato intelligente Quell'attacco Però Ok Dobbiamo distruggere Tutte le flotte Nemiche Oh Basta Sti matrimoni Andami di Dio Ok Partiamo La flotta A riparare Scusatemi Ragazzi La concentrazione Sono un po' Arrugginito Su questo gioco Lo ammetto No Intanto Attacchiamo Questo territorio Abbiamo Stabilità Un po' Bassa Dovrei Aumentarle Effettivamente E se Mangiamo Troppo Dobbiamo spendere Punti Qui non c'è bisogno Di queste truppe Sennò vanno Mi muoiono Solamente Ma dove sono Le truppe Ah Sono tutte Due vicine Ok Per ora Avendo il controllo Del mare Brunei Non ci potrà Rompere Coglioni Con le truppe Quindi Cerchiamo di tenere Sotto controllo Tutta l'area Dovremmo avere Una flotta Molto più forte Noi Molto Molto Più forte E' già in guerra Porca Puttana Con Dai Viet Aglie Allora Sicuramente La capitale Del nostro Alleato Cade Così Secondo me E' meglio Che andiamo A supportarlo In battaglia E dovrebbe Essere una giungla No Ah E' pianura Cazzo Speriamo che vince Il nostro Alleato Sta vincendo Anche senza Di noi Quindi Posso lasciare Le truppe Qui In caso Brunei Riuscissi A sbarcare Ho detto Ragazzi Una guerra Abbastanza Sempliciotta E in più Noi Non gli diamo Nemmeno Il territorio Così Sceglierà La lanza Con noi E abbiamo Il casus belli Per conquistare Anche quell'area Intanto abbiamo Un bellissimo Vassalo Vi giuro Nel nome Di Dio Io non conoscevo Queste missioni Quindi Abbiate pazienza Se avete visto Cazzo Sono arrivato Troppo tardi Mi sa Via 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 Non se le Combattere ancora Normalmente Sono più forti Di noi Amen Purtroppo Sono più forti Di noi Brunei Sarà Un po' Un problema Vediamo se riusciamo a togliere Tanto non dobbiamo Dargli nulla Quindi Almeno 40 Dobbiamo aspettare Che cadere le capitali Eh Brunei potrebbe Trasportare le truppe Non so se è impegnato In altre guerre Ma non mi sembra Ok Non mi sembra Lui c'ha vantaggio Su di noi Ovviamente Per una flotta Vabbè Immaginavo che Comunque Brunei Avesse una flotta Più forte di Malacca Rispetto a noi Noi possiamo formare Malaya Interessante Non so se hanno Modificato il governo Sono sincero Che cazzo fanno Sti navi commerciali Porca tra il cazzo Gli ho detto di uscire Cioè dovrebbe essere Automatico L'eliminazione Della missione Mentre siamo in guerra Porca puttana Vediamo se riusciamo A togliere questo Posto Ah Mi servirebbe Più metri Eh ma Mi serve prestigio Ragazzi Mi serve prestigio Abbiamo una missione Del prestigio E dobbiamo farla E la situazione Comunque Vantaggiosa Per noi In questo momento La guerra È molto in vantaggio Per noi Eh sto giocando A velocità 3 A volte aumenterò Capitano che aumenterò A 4 Sapete Rispetto a Crusade King Magari lì ci mettiamo A leggere anche Le cose che arrivano Eccetera Però qua Un po' Comunque il gioco Ce l'ho in inglese Non ho mai messo Il traduttore qui Poi rispetto a CK Non c'è molto Da vedere La parte GDR Ecco se possiamo dire Allora intanto C'ho un claim su di lui Lo faccio un attimo Così Mi levo Mi libero questo Povero Cristo Da lì E anche qui Ormai abbiamo finito La guerra Possiamo Fare stop Non possiamo Climare Perché siamo in guerra Contro di lui Probabilmente E infatti Siamo in guerra Non possiamo farlo Ma questo non toglie Il fatto che Con quello Vassalizziamo Al massimo Abbiamo 3 vassalli Non so Quanto è il desiderio Di questo qui Mettiamo supporto In caso Dovessero esserci Altre battaglie Il problema Rimane Brunei Molto In modo molto Sincero Non possiamo Manco forzare La vassalizzazione Perché è troppo Debole Però siamo Troppo deboli Scusatemi Boh Intanto È iniziata Abbastanza bene La battaglia La situazione La situation Ok ok Ai 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 Hanno una flotta Enorme Non possiamo fare Battaglie E niente Dobbiamo un po' Spammare di galè Qui eh Noi siamo Molto forti In queste aree In battaglia Siamo tipo Stile Venezia Venezia asiatica Possiamo dire E niente Sto forte Ha deciso Di non cadere Proprio Zero Non vuole Proprio Saperne nulla Di cadere Nulla 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 Oh Finalmente Ci ho fatto Perdere un bel po' Di manpower Se voglio Conquistarlo tutto Quanto mi dà Wors Eh vabbè Bassissimo Aspettiamo E amen Mettere un po' Più veloce Adesso Visto che dobbiamo Aspettare Che finisce Si arrende Siamo a meno 6% Manco altissimo Declina Voglio tutti i tuoi territori Qua ovviamente Cerchiamo di conquistare Il nome nostro Aiutai Sicuramente sarà Pericolosa Per noi Ciamp è diventata Da veramente debole E non accetto Comunque I nostri La nostra amicizia Mi sa che Quella missione Sarà un po' Un dito in culo Dobbiamo avere Tre bassali Due ce l'abbiamo Conquistando lui Tre conquistando lui Che è alleato Con Pattani E Deli Ah Ok Declina Non ho claim Su di lui E questi Devo conquistare Lui è alleato Con Ace Di nuovo Ace Lui invece È alleato Con passare Intanto direi di conquistare lui Andiamo a fare Claim su di lui Ce lo vassalizziamo Se abbiamo Tre bassali Allora Dovrebbe arrendersi Adesso Vediamo E niente Dobbiamo aspettare ancora Oh cazzo Sbaglio Ho messo a 4 Scusate E abbiamo un po' Di soldi Abbiamo un po' Di manpower Lo stiamo recuperando Non siamo messi così male Però Non dobbiamo Mai saggiorare Con le guerre Dobbiamo fare Attenzione Accetto che palle Fammi perdere stabilità Ancora Non mi sembra il caso Su For Peace E ce li cede Territorio Ce Ce li cede Ce li cede Allora So che dovrei Aumentare i punti qui Dovrei giocare Un po' Con gli estate Avete anche ragione Mi sono dimenticato Di sto particolare Tanto finiamo Prima la guerra E poi ci pensiamo E andiamo A vassalizzare Fratomo Shiro Che non vuole Questo è un problema Dobbiamo Attaccare Brunei C'è un 11 galè Nel nome di Dio C'è tante galè Lui Aspetta a noi C'è anche quella Flotta di rinforzo Che non è per niente Ah ok Però forse Niente Andiamo a fare Sta battaglia lì Perfetto Siamo lì sotto Tutta la flotta Dai venite Ragazzi Stiamo perdendo Doppio delle flotte Nel nome di Dio E' troppo forte La flotta di questo Porca troia Boh vabbè Rimaniamo in guerra Tutta la vita Che ti devo dire Intanto mi preparo Per la prossima guerra Ho perso Un bel po' di navi Cazzo E' stato un errore grave Lo so E andiamo a fare la battaglia Dobbiamo eliminare Le truppe di Brunei Semplicemente Tecnologia Quanto è lui Vabbè Come scarsa Come la nostra Ma noi Che istituzione abbiamo? Un po' bassina Una cosa Non ho capito Perché i nostri I miei alleati Ah giusto Siamo su Europa Universalist 3 Scusami Non è Crusade King Mi sono dimenticato Che qui lì Adorme Nel nome di Dio Mi aspettavo Che veniva Invece Se andava A fare in culo Con le truppe Nel nome di Dio Dov'è il mio vassano? Cioè se Vai E questo Non è per niente male Abbiamo più morale Quanto lo abbiamo adesso E niente Oh Possiamo già fare Il nuovo stato Qui Lo facciamo subito Perché tanto Quei territori Poi ce li conquistiamo Miticismo Miticismo Dacci più Più cose fattibili Comunque dobbiamo Rifare la flotta E questo non voglio accettare Ah ma meno due Dobbiamo solo avere pazienza Adesso Eh raga Purtroppo Brunei Ha veramente Una flotta fortissima Mi ha spaccato La mia flotta Devo rifarla Però Però dai Dagli errori si impara Sono troppo abituato Ai nuovi giochi Da Paradox Purtroppo non gioco Da veramente tanto tempo Dai che palle E' un affanculo Tutte e due Pede coglioni E' una cosa che odio Sono gli estate Non mi piacciono proprio Vi giuro Il fatto che devi mettere Sta roba Eccetera Mi giuro Un fastidio Che voi non avete idea E' veramente Una cosa che Odio Di più Non la sopporto Proprio Se posso essere Sincero Allora Ma Ho fatto i claim C'è stato un piccolo ritardo Ah perché Non era finito il mese Eh Dobbiamo aspettare Questo qua pure Potremmo Vassalizzare Questo magari Così abbiamo Controllo Di quest'isola Non accetteranno mai La pace bianca Boh dai Allora mi concentro Su altre cose Su altre guerre Effettivamente Inutile Perderci troppo Il tempo Tanto Ma un po' Ne abbiamo Dobbiamo Ah c'è Questo qui Quante truppe All'incirca 6.000 truppe Ah non è Scecito piccolo Mi faceva comodo Anche lui Nella guerra Però Ho gli obiettivi Conquistati E Ovviamente Europa Universalis Su questo discorso Funziona un po' Così così Alla fine 19% Abbiamo 32 Se non si Leva Brunei Siamo fermi Tutta la vita Allora Invece lui Con chi Alleato Pattani I pattani Sono quelli Sopra Beh effettivamente Questo è più conveniente Come guerra Delli non le aiuta Che è impegnato Nella guerra Con noi Li possiamo tenere Bloccati Nella nostra guerra Così non entra Effettivamente Non ci ho pensato Ma abbiamo Un claim Prima Prima dobbiamo Eliminare Le truppe Di pattani Quindi mi inizio A spostare lì Voilà Sblocchiamo La prima Tecnologia Possiamo già Costruire Qualcosa Il mercato Che adesso Siamo un po' Poveri Abbiamo bisogno Di truppe Allora Ho sbagliato Persona Pasai Non aiuta Noi siamo Molti di più E possiamo fare Il terzo Passallo Perfetto Andiamo a spostare Un attimo Le truppe qui Possiamo fare pace Però potremmo Trovarci Lui in guerra Spero di no Allora Abbiamo Il vassallo Nuovo Improver relation Subito Aspetta Seggio E' ancora Alleato Aldeli Questo è un problema Aioiai Speriamo che Non lo aiuta In guerra Tecnicamente E' messo male Quindi Non che noi Siamo messi così bene Precisiamo questo Potrebbe entrare in guerra Perché Ovviamente Non ho rispettato L'accordo Ma non è un problema Tanto abbiamo Più truppe Il nemico Non ha truppe E niente ragazzi La situazione Sicuramente Un po' Incasinata Incasinata Potremmo rischiare Di avere un nuovo nemico Ma Noi non demordiamo Non abbiamo paura E intanto Per adesso Ci godiamo Il nostro potere Ci godiamo I nostri Veri poteri La nostra La nostra Forza militare Per ora Lui ha ancora L'alleanza con noi Tecnicamente Avremo la tregua Quindi non so No Tecnicamente Può entrare Perché è difensiva La guerra Un po' Mi preoccupa Ecco questa cosa Abbiamo poco Manpower Lo so Ma Possiamo mettere La velocità 4 In questo caso Possiamo goderci La velocità 4 Hanno solo flotte E non mi dispiacerebbe Vassalizzare uno dei due Perché mi servirebbe Una flotta vassalla E in più abbiamo La missione Di avere tre vassali Ecco Asciutto l'alleanza Potrebbe entrare In guerra Forse no Forse si Lo scopriremo Ovviamente Nel prossimo episodio Scherzo Ancora non è finito L'episodio O forse si O forse si Ed è entrato in guerra Ragazzi Bene 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 È entrato un nuovo Nemico in guerra Bene 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 Ma abbiamo Le truppe dell'altro Vassallo Pronte lì A difendere Il nostro Territo Porca Troia Questo non ci voleva Questo non ci voleva Nel nome di Dio Ok andiamo adesso Speriamo di vincere La battaglia pulita pulita E la vinciamo pulita pulita Ok Siamo a cortissimo Di manpower Dobbiamo fare Attenzione Potrebbe succedere Qualsiasi cosa In questo momento Potrebbe veramente Succedere Qualsiasi Cosa Allora Andiamo a sediare La capitale Qui Diciamo Velocità 4 Tanto siamo solo In assedio Dobbiamo avere Un po' di pazienza E giocarcela Bene Purtroppo Mi dispiace Per aver perso La flotta Ma lo sapevo Contro Brunei Sarebbe stata Molto dura Che se non mi sbaglio Io non voglio di cazzata Però mi ricordo Che le idee di base Erano Morale Armis Ah no Sull'ereo Sull'esercito Pensa un po' Allora Lui Potremmo Farlo Vassallo Malacan Vassallo Ok Quello più che si addice A un vassallo E questo ce lo prendiamo Questi territori Per fare appunto La nostra Zona Militare Ecco Cioè i nostri territori Abbiamo visto Che abbiamo preso Appunto Già fatto lo stato A noi conviene tantissimo Che questo sia Controllato Ufficialmente Da noi La cultura È uguale Ecco c'è da tutto uguale Dobbiamo abbassare un po' L'autonomia Ma adesso siamo in guerra Quindi non possiamo Però siamo Siamo lì Siamo lì Siamo lì Sta girando tutto Abbastanza bene Lui Lui probabilmente Ci aiuterà In questa famosa Battaglia Per difendere La capitale Lui è un vero Vassallo fedele Sciolti Potremmo fare pace Bianca Brunei Brunei Ma vaffanculo Vaffanculo Brunei Figlio di No Mi dissocio Assolutamente Ok Siamo in una situazione Vantaggiosa Per noi Vantaggiosa Vantaggiosa Voilà Poi togliamo Ma diceva Che accettava Lui mi serve Pace bianca Perché comunque Non posso Ah potrei Forzarlo Ma non accetterà mai E non mi conviene Perché dopo È un casino È un casino Veramente Allora Abbiamo sviluppato La tecnologia militare Oh Scusatevi Niente Non vuole arrendersi Il nostro Il nostro compare Siamo a meno nove Vediamo se lui Si arrende Niente Nessuno dei due Vuole arrendersi Per ora Questa cosa Un po' Scioccante Anche il mio punto di vista Che posso dire Siamo già indietro Di tecnologia Che perdiamo punti A quanto pare Si Secondo il gioco Non abbiamo La tecnologia adeguata Facciamoci dare I soldi Almeno Ci prendiamo I soldi Da lui Purtroppo Non posso Conquistare Mezzo mondo Ragazzi E nel nome Di dio Ha rotto Le palle Ok So for peace Vassallo Perfetto So for peace Dobbiamo aspettare Un attimo Peace Facciamo Annetti Hola Hola Chico Perfetto Abbiamo nuovi claim Di vassallaggio Ovviamente Allora ragazzi Io direi Direi Possiamo Fermarci Già Adesso Per questo Episodio Per questo Episodio Possiamo Fermarci Già Adesso Mettiamo Che dobbiamo Recuperare Mampare Siamo un po' Sotto Di truppe Dobbiamo andare Con calma Abbiamo fatto Tante conquiste Siamo anche Nella stanchezza Di guerra Riposiamoci Un po' Riprendiamoci Un po' Dalla fatica E abbiamo Conquistato Dei territori Interessanti Abbasserei Subito L'autonomia Prima Di Combattere I ribelli Perché saremmo Concentrati Contro i ribelli A quanto pare Abbiamo Un bel po' Di soldi Abbiamo Un po' Di cose Interessanti Ci vediamo Nel prossimo episodio Fatemi sapere Se questa serie Vi piace Vi piace Scusatemi E sono dislessico E niente Oltre questo Fatemi sapere Che così Magari Continuerò Questa serie Nella conquista Delle isole D'Indonesia E' Indonesia Vero